ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio proporre questa vettura fantastica del luglio 2016 con solo 49.000 chilometri e si tratta di un audi a3 sportback 2150 cavalli turbodiesel nella versione ambition ambition quindi fare lo xeno ruote in lega sensori parcheggio posteriori vetri scuri posteriori colore nero metallizzato climatizzatore automatico bizona sedili riscaldati bluetooth cruise control automatici barri al tetto cromate vettura con 49.971 chilometri al prezzo di 19.900 euro più spese di matricolazione messi in strada con 36 mesi di garanzia ebbene sì su questa vettura noi diamo 36 mesi di garanzia inoltre vi ricordo che tutte le vetture hanno il chilometraggio certificato da libretto service presente sulla vettura il chilometraggio vi verrà certificato sia sul contratto che sulla garanzia e sul libretto service le vetture verranno controllate e tagliandate dalla ala z nella nostra officina che è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 e sabato dalle 8 a mezzogiorno vi aspetto a vedere la vettura a motta di costigliore d'asti sito internet biancoauto.it telefono 0141 96 92 inoltre vi volevo anche ricordare che chi avesse la necessità di fare un finanziamento noi ve lo possiamo fare anche dell'intera cifra fino a 96 mesi ciao a tutti amici alla prossima